Mister, una targa in ricordo di questa annata splendida qui all'Associazione Allenatori, che effetto le fa riceverla adesso che siamo a botta fredda? Mi fa grande piacere perché comunque è un riconoscimento fatto dall'Associazione Allenatori, quindi quando viene dai tuoi colleghi è particolarmente apprezzato perché siamo tutti addetti ai lavori, siamo tutti del mestiere, quindi l'aver ricevuto una gratificazione così da tutta questa gente mi ha fatto enormemente piacere. Ci può svelare qualcosa in più sul suo futuro, si è parlato tanto di questo contratto di cui ha chiesto la risoluzione, innanzitutto le chiedo perché Mister è arrivato a questa decisione. Ma guarda, non ci sono tanti segreti, io col direttore soprattutto e col presidente, ma soprattutto col direttore per motivi di vicinanza lavorativa, sono stato in contatto sull'argomento da tempo, sono sempre rimasto all'idea man mano che la stagione andava avanti e proseguiva in pompa magna come poi è finita, anche se non abbiamo ottenuto la promozione in B e io era un risultato che insieme ai giocatori e alla società speravo potessimo raggiungere. Ho sempre pensato che man mano che andava avanti la stagione così grassa, così piena di successi, così gratificante, con record di imbattibilità in casa, con il minore numero di sconfitte in generale nel campionato, con 64 punti, con la semifinale play-off, insomma siamo arrivati dal mio punto di vista inaspettatamente a un risultato enorme, tutti quanti, e quindi ho fatto la semplice riflessione che rispetto a quello di cui abbiamo parlato quando stipulai il contratto biennale, dove c'era un progetto crescente, dove non avremmo mai pensato di bruciare le tappe così, che in caso di non promozione in Serie B il mio lavoro qui potesse essere finito per il semplice motivo che abbiamo fatto una roba troppo grande, io sono nel calcio da 29 anni, ormai a medio-alto livello, so come funzionano queste cose qua, è stata una considerazione, una decisione esclusivamente mia, di cui ho costantemente tenuto in formato il direttore, dopo è chiaro che uno spera sempre, magari in un ripensamento, ma non è dovuto al fatto che io mi sia trovato male, o che abbia screzzi, non ho screzzi con nessuno, non voglio cercare rogna con nessuno, io il presidente Lacava e il direttore li devo soltanto che ringraziare perché mi hanno fatto lavorare come ho voluto e per quello che mi è piaciuto, mi hanno messo a disposizione una squadra forte perché altrimenti non saremmo arrivati dove siamo arrivati, non mi sono mai preso nessun tipo di meriti perché secondo me ce li ho relativi, visto l'organico che avevo a disposizione, detto questo capisco tutto e capisco tutti, però credo che il mio percorso all'Arezzo sia finito dal punto di vista motivazionale ed emotivo, detto questo non sono io che decido, ho un contratto in essere con la società, sarà il presidente e il direttore che faranno le loro valutazioni, però la mia considerazione rimane questa, il fatto che io a domanda che mi è stata fatta in sala stampa serenamente abbia risposto che ne avremmo parlato con la società, ero molto tranquillo, lo sono tutt'oggi, vi anticipo io le domande quindi vi rispondo diretti, leggo dalle rassegne stampa di Gigi che sono inseguito da Fior di Squadroni, allora oggi approfitto del premio che mi viene consegnato per dire che nessuna, e sottolineo nessuna squadra di Serie B mi ha contattato, le due squadre di Lega Pro che mi hanno contattato le ho fatte per venire al direttore, quindi era informato di tutto, No, quello non lo posso dire per rispetto loro, non per me, comunque non Toscane, così sgombriamo Siena o quello che gli va dietro, perché ho letto un po' di tutto, posso dire senza paura di sbagliare o senza paura di cadere in errore che non sono stato cercato da nessuna di queste società qui, né Empoli, né Siena, né quello che è stato scritto, sono tutte bufale. Detto questo, la mia richiesta di svincolo appena finito il campionato deriva dal fatto che quando firmai il contratto io e il Presidente mi fece buonariamente la battuta Mister, tutti sti soldi, come si fa? E io risposi che se non fosse stato contento a giugno di quest'anno avrei rescisso e cestinato il contratto senza nessun problema perché su queste cose qua io mi ritengo ancora una persona di una volta, detto questo nessuno mi ha puntato la pistola per fare due anni di contratto, ma queste sono trattative tra società e allenatore normalissime che succedono a tutti quindi ho chiesto la risoluzione del contratto in un momento in cui non volevo che si pensasse che l'allenatore scappasse o siccome ho visto che mi è stato dato del mercenario faccio presente che le due società di Lega Pro che mi hanno proposto i contratti mi davano la metà di quello che guadagno ad Arezzo, che qua guadagno tanto quindi non ho cercato lidi migliori o situazioni migliori, ho semplicemente fatto una considerazione che il mio lavoro qui fosse finito e oggi resto ancora di questa idea qua tenendo presente che sono un tesserato sotto contratto, quindi deciderà il direttore la mia sorte. Ti aspettava qualche argomento per convincerla a rimanere o qualche garanzia tecnica, magari di ambizioni per il futuro? No, anche questa meglio, questa me l'ho dimenticata da specificare ho detto nella riunione che abbiamo fatto il martedì seguente al Pisa c'erano tutti, c'erano il presidente, i direttori, il mio secondo e ho detto semplicemente al presidente che avrei quasi vergogna a fargli una richiesta del genere perché sono due persone che mi hanno messo nella condizione di lavorare come ho detto prima, come ho voluto quindi non sono Marcello Lippi che ha la pretesa di allenare a Juventus stellare quindi chiede giocatori a go-go, assolutamente no anzi il resto dell'idea che il direttore sia talmente scafato da fare allestire a prescindere da chi sarà allenatore una rosa all'altezza della situazione perché lo ha sempre fatto detto questo non era quello il motivo di scelta tra il fatto di rimanere o non rimanere era soltanto una considerazione personale associata ad altri affari miei che non sto qua a elencarvi, che non c'entrano niente però non c'entra niente il rapporto che ho con società, tifosi, città approfitto per dire, visto che l'altra cosa che mi è stata mossa è che non sono andato sotto la curva l'ultima partita dopo Pisa io credo che un tifoso apprezzi il fatto che io abbia messo il 200% nella mia professione nel mio modo di esercitare la mia professione odio per il carattere che ho i giocatori che vanno a battere il petto e baciano le maglie sotto la curva o gli allenatori che fanno le corse a battere le mani sul petto sotto la curva perché poi nella vita può succedere che uno debba fare delle scelte diverse come è successo con Conte o con Sarri e poi questo sa di presa in giro ecco io in giro non ci ho mai preso nessuno sono una persona che è pagata per svolgere il proprio lavoro l'ho fatto, credo nel migliore dei modi non sotto il profilo dei risultati ma sotto il profilo dell'impegno quindi credo che a un tifoso dovrebbe bastare questo detto questo sono stato gratificato il giorno prima della trasferta di Pisa che la gente si è venuta ad applaudire i giocatori e aver ricevuto io stesso l'applauso della gente quindi mi fa assolutamente piacere l'ultima volta che mi sono sbilanciato un pochettino con il pubblico della mia squadra ho preso una scottata pesante che mi resterà impressa tutta la vita quindi evito di riprenderne un'altra perché so che tanto le cose vanno principalmente per risultati quindi sono contento di aver dato tutto quello che potevo dare per l'Arezzo questo sì Le chiedo se la società non la libera perché i segnali non vanno nella direzione di una risoluzione è disposto ad aspettare il mister o a far passare ancora del tempo? Ma io ad oggi siccome leggo che si aspetta di intavolare una trattativa oggi non intavoliamo niente per il semplice motivo che non ho niente quindi per quello va fatto l'esempio del giorno dopo Pisa due giorni dopo Pisa la riunione Nessun incontro a Rigomagno quindi? Assolutamente no io il mercoledì che è stato imputato a quell'incontro stavo a portare a ginnastica mia figlia quindi a Rigomagno non c'era, non so nemmeno dov'è ma detto questo no, queste sarebbero cose scorrette che io non ho fatto vi ripeto, quando sono stato contattato da società poi è normale che voi oggi guardate che le squadre che sono senza i tasselli degli allenatori e li abbinate a chi c'è ancora a casa ma a casa ci sono tanti bravi allenatori che magari anche nell'ultima stagione non hanno allenato io posso dirvi queste cose, ve le posso dire per certo che comunque noi allenatori ci parliamo quindi con chi sta aspettando il Siena io può darsi che lo sappia pure e non sono io o chi sta aspettando lo Spezia lo so o chi sta aspettando il Chievo lo so quindi visto che è stato frequente il mio abbinamento all'Empoli io sono stato due anni fa in primavera da quando me ne sono andato alla Juventus l'anno successivo non ho mai più sentito nessuno dell'Empoli quindi sono sereno nel potervi dire che oggi la mia richiesta va esclusivamente per il fatto che mi sento, come posso dire completamente realizzato per quello che abbiamo fatto qua e per quello che è nelle mie possibilità di dare dopo di che se la società farà una valutazione diversa io sono dipendente vedremo quello che succederà Poteva vincere il campionato l'Arezzo, mister, adesso a mente fredda oppure ha la convinzione di aver fatto e spremuto il massimo da questa rosa? Guarda, quando si fanno delle considerazioni su come è andata la stagione o sull'organico che si ha a disposizione troppe volte si tende a dare esclusivamente il peso alla parte tecnica se noi diamo esclusivamente peso alla parte tecnica siamo stati credo la squadra che ha espresso il miglior calcio oggi che è finito il campionato lo posso dire però il calcio passa per tanti altri aspetti se il Pisa contro di noi ha vinto due partite su due vuol dire che ha messo sulla bilancia esperienza, mestiere, fisicità tante caratteristiche che magari a noi sono venute meno ma non per demerito dei giocatori ma perché sono insite nel calciatore in sé quindi qualcuno ce l'ha, qualcuno no noi abbiamo fatto leva su quella che era la nostra migliore qualità e abbiamo peccato su quelle che invece non avevamo agli altri quelle che avevano probabilmente sono bastate però sono stati anche organici costruiti per fare campionati di vertice io di questo quando vi feci le considerazioni che alle volte schieravo 4 under, 5 under, qualche giocatore della D l'ho fatto per rendere merito alla stagione stratosferica che hanno fatto i calciatori e al fiuto che ha avuto la società nel mettermi a disposizione non mi avete mai visto sbandierare il mio lavoro non lo faccio nemmeno adesso perché sono convinto che siano i calciatori, gli attori principali e la società abile a mettermi a disposizione questo poi se uno vuole andare a trovare quello che non c'è andiamo a trovare quello che non c'è Un'ottima cosa, ministro, ma ora c'è nel senso cosa dobbiamo aspettarci? Un incontro? Cioè come si risolve questo stallo? No, ma io incontro, ne avevo uno in programma che non c'è stato la settimana scorsa col direttore io capisco, perché mi ci parlo, mi ci sono parlato ora un pezzo dall'ultimo incontro mancato che non ci sentiamo ma io sono, al di là di essere un allenatore tesserato sono in buoni rapporti sia col presidente che col direttore non ho mai cercato di ingannare nessuno o oggi non cerco di sviare perché poi arriverà Tizio e no, oggi non arriverà nessuno io oggi la risoluzione la chiedo per andare a San Teodoro ci parto sabato pomeriggio e può darsi pure che ci rimanga ma non sono preoccupato di niente nemmeno se dovessi star fermo una stagione sono una persona che ama il lavoro che fa ma nella vita non è tutto quindi Silvio Baldini ha detto che porterà la carraresina e poi farà il pastore io non so se porterò mai qualcuno in A e di sicuro il pastore non lo faccio ma una camera dal mio amico Simone Guala all'azienda La Ghiandaia per fare un po' di pesca nel Sesia e un po' di caccia nel Risai e ce l'ho pure io grazie